La partita persa in Palermo ci sta, è una squadra molto attrezzata, ma sicuramente questa settimana ci siamo allenati per migliorare ancora di più. Il mister ha tanta fiducia in me, dovevo solo aspettare il momento e l'ho ripagato sul campo, adesso con il lavoro sicuramente arriverà anche qualche partita da titolare, spero. No, chiedo solamente di giocare più partite e di dare una grossa mano a questa squadra perché è un gruppo fantastico, noi ce la metteremo tutta per portare il risultato a casa, poi il campo dirà la verità.